Ciao e benvenuti in questo nuovo video del corso nutrizione e cosmesi del cane per il benessere e migliori performance dove parleremo del cane adulto. In questo video, appunto, riassunto iniziale, sono questi punti. Quindi, come identifichiamo un cane in salute, mentre quali possono essere segnali che qualcosa non va? Poi parleremo del microbioma e dei fermenti, dei probiotici e prebiotici e dei postbiotici. Questo è un argomento di grande attualità e su cui forse esistono gli studi più recenti. Si può fare un po' di chiarezza e semplicità. Questi sono le informazioni che è bene che chiunque sappia. Parleremo del rapporto calcio-fosforo, cosa è bene sapere. Come approfondimento, quindi vedremo alcuni integratori, che avremo anche un capitolo dedicato solo a questo. I principali criteri di utilizzo e poi l'approfondimento sull'acqua perché è importante per un cane in salute e l'acqua quando invece può dare problemi. La frequenza di somministrazione dei pasti e parleremo anche del giorno di digiuno. Infine, alcuni prodotti cosmesi e prodotti utili per il cane adulto. Ma iniziamo!